Questa sera torniamo alle nostre decklist Let's Do It Cheap Quindi decklist di mazzi che non sono all'apice della potenza Non sono paragonabili forse ai mazzi top meta Però con un budget abbastanza ridotto Noi possiamo andare a creare un mazzo Che come dire può dire la sua E anche divertente Questa sera andiamo a parlare di Polizia Dimensionale Ma nella sua versione Enigman Mazza Enigman Che l'unica difficoltà diciamo sarà più che altro recuperare carte vecchie E un soprattutto che tutti conosciamo Partiamo dallo starter Noi andiamo a giocare la chain di Enigman Quando le chain erano robelle Ovvero in BD04 Cosa dice infatti lo starter? Dice che se noi andiamo a convocare sopra di lui Il G1 Enigman in caristratura Che è il G1 giusto Della chain Andiamo a recuperare dal mazzo il G2 direttamente Non andiamo a cercarlo tra le prime sette O altre cose del genere Come fanno le altre chain Andiamo direttamente a prendersi il G2 della chain Andiamo quindi a vedere dal NAP di G1 Giochiamo ovviamente il 4x Quindi di Enigman in caristratura Ovvero il G1 della nostra chain L'unica pecca di questa carta è il 6.000 di forza Era la cosa negativa che avevano queste chain E purtroppo Ce la dobbiamo subire Cosa dicono però i suoi due effetti? Vabbè uno ovviamente Abbiamo prima detto fa partire lui Se andiamo a convocarlo giusto E Sempre in Vanguard Dice che Se nell'anima è presente E in imbaflusso Lui è un 8.000 Non un 6.000 Quindi ci permette di difenderci meglio In retro invece Quando noi lo schieriamo Possiamo scartare Un qualunque G3 E andarci a recuperare Enigman tempesta dal mazzo Andiamo poi a vedere Un altro G1 Arrivato con GBT1 Che è Enigman nuvola Enigman nuvola È una carta che ci permette Di recuperare i pezzi Che non abbiamo in mano Che ci servono Per fare i nostri vari effetti Perché cosa dice? Quando questa carta Viene schierata In un cerchio di retroguardia Al costo di Un attacco dell'anima Andiamo a vedere Tra le prime 5 carte Se c'è una carta Di grado 2 Inferiore Con Enigman nel nome E L'aggiungiamo in mano Dopodiché Mescoliamo il mazzo E mettiamo una carta In mano in anima Cosa ci permette di fare? Ci permette sia di andare a cercare pezzi Sia di mettere in anima Quelle carte Che ci servono a avere in anima Poi vedremo quali sono Dopodiché Purtroppo Non ci sono tanti altri Enigman Di grado 1 Quindi dobbiamo andare a giocare Qualcos'altro Cosa giochiamo? Vabbè I4 per della PG Non esiste una PG Enigman Quindi Andiamo ad accontentarci Di quella che vogliamo Questa forse La fa un po' Sciere dalla questione Let's do it budget Let's do it chip Scusate Però Può essere sostituita Tranquillamente Da qualunque altro PG Io gioco questa Perché La ho Quindi Nessun problema Ma se qualcuno Non l'avesse Dovesse procurare questo mazzo Da zero Sappiate che qualunque PG Va bene Noi giochiamo questa Perché questo mazzo Gioca parecchi counter blast Quindi Una carta che ci sta Pondanno Non è male Per chi non la sapesse Vabbè È una PG Quindi Come sapete Se noi la schieriamo In un cerchio del guardiano Scartiamo una carta E pariamo l'attacco L'unica cosa Di queste qua È che Al prezzo Di poter parare solo Vanguard Ma a noi non interessa Pararle retro Va bene So che c'è Laurel E polizia dimensionale Ma a noi non interessa Comunque al costo Di poter parare solo Vanguard Lei Se c'è una sua copia Nel cimitero E noi lo usiamo per parare Ci stappiamo un danno Quindi Schifo non fa Dopodiché Ovviamente Il 2x di Laurel Quindi Questa è l'altra carta Forse Più costosa Che abbiamo qua dentro Sicuramente la più costosa E forse È l'ultima carta costosa Che abbiamo veramente Già giochiamo solo in 2x Perché tendenzialmente Una colonna Tiene ad attaccare Prima del Vanguard Quindi Perde un po' la potenza E non ha Enigman Ma soprattutto Non abbiamo bisogno Di giocarne veramente 4 È comodo averne 2 Più di 2 Io non le giocherei Cosa dice Laurel? Dice che Se il nostro Vanguard Dovesse colpire Qualunque cosa Noi mettiamo a riposo 4 retroguardi E stappiamo il Vanguard Quindi ci permette Di farci altri check E di mettere Sempre più sul nostro avversario Non ne giocherei più di 2 Se voi volete giocarne di più Nessun problema Andiamo a vedere quindi I gradi 2 Di gradi 2 Giochiamo la same Però A differenza degli altri mazzi Che avete visto Giochiamo solo 2 Di Enigma Nonda Perché ne giochiamo 2? Perché andiamo a tutorarselo Col grado 1 Andiamo a tutorarselo Con nuvola E possiamo metterlo in anima Con altre carte Quindi Giocarne di più Non ha senso A mio parere È comodo È bello Vederlo in mano Sopra addirittura Enigma In Crespatura Ancora meglio Però Cosa dice? Dice che Se Abbiamo Enigma Nonda In anima E lui è in Vanguard È un 10.000 Non un 9.000 E soprattutto Se Prima della battaglia Dovesse raggiungere I 14.000 Di forza Quindi Deve avere In Crespatura nell'anima E noi lo abbiamo potenziato In qualche maniera Guadagna l'effetto Che se colpisce Ci fa pescare una carta Schifo non fa Però non è sempre detto Che succeda E come ho detto Questa carta Ha due effetti In Vanguard Che vuol dire Che fuori Dal cerchio di Vanguard È un giallone Da 9.000 Quindi Per questo Anche ne giochiamo solo 2 Dopodiché Andiamo a giocare Una carta invece Molto utile Arrivata con Gbt1 Che Enigma Cielo notturno In 4 copie Cosa dice Enigma Cielo notturno Dice che Quando questa carta attacca Al costo di un Counterblast Con Enigma Quindi Già cominciamo a vedere Counterblast Particolari Quindi per questo Avete capito Giochiamo anche Quelli che ci stappano I danni Comunque Al costo di un Counterblast Con Enigma Scegliamo la nostra Retro Con Enigma Nel nome E gli diamo Più 4.000 Quindi serve Ad attivare Tutti gli effetti Tipo il suo Ce la possiamo Cercare con Enigma Cloud Quindi direi Che è un supporto Più che utile Per questo mazzo Dopodiché So che Tanti giocano Più Enigma Nonda Ma a me non piace Io gioco Il 3x Del Kaiju Degli Ioni Kaiju Degli Ioni Lo preferisco Ad altre carte Quando il suo attacco Colpisce Counterblast 1 E diamo meno 3.000 Al Vanguard Avversario Diciamo che è un po' L'opposto suo Però che non dà la potenza Che Tanti giocano Becco Cosmico È una buona scelta Anche Becco Cosmico Però Richiede 2 Counterblast A me sta piacendo di più Giocare il Kaiju Degli Ioni Non giochiamo Altri G2 Come mai Ne giochiamo così pochi Perché preferisco Tenermi Degli spazi in più Per i G3 Adesso vediamo il perché Allora Che G3 giochiamo Giochiamo Ovviamente Il nuovo arrivo Di GBT1 Ovvero Il 4x Di Enigma Tornado Enigma Tornado È La nostra finish Tra virgolette O comunque Una delle carte principali Che vogliamo vedere In Vanguard Cosa dice Dice che Quando attacca Se Cioè In una sottofase Di battaglia In una sottofase Di battaglia Se La sua forza È 19.000 Superiore Che Non è difficile Raggiungere Tranquilli Dopo vedrete il perché Guadagna un effetto Ovvero che Se dovesse colpire Counter Blast 1 Sol Blast 1 Quindi un attacco Giriamo un danno E tiriamo via Una carta all'anima Scegliamo una carta Chiamata Enigma Tempesta Dalla nostra anima La raidiamo La raidiamo E prende più 10.000 Quindi ci permette Di fare Un altro attacco In più di Vanguard Che Schifo non fa Soprattutto Vedremo perché Anche con il crit Il suo secondo effetto Il suo secondo effetto Dice che Scegliamo una carta Dalla mano La mettiamo in anima E prende più 4.000 Quindi vedete Che i 19.000 Che Chiede il primo effetto Non sono così Difficile Da raggiungere Basta Due carte in anima Dalla mano Oppure Delle carte specifiche Che vediamo dopo Quindi Giochiamo 4 di lui E Giochiamo Solo 3 Degli Enigma Tempesta Perché Giochiamo solo 3 di loro L'uno Ci permette Di tutorarcelo Quindi non ne vedo L'obbligo Di giocarne Più di 3 Soprattutto perché Lui ok Ma non vogliamo Vederlo proprio in Vanguard È forte comunque Ma Cioè Vogliamo vedere lui O l'altro G3 Che vedremo dopo Cosa dice comunque Beh Se abbiamo Enigma Nonda In anima È un 11.000 Non 10.000 Quindi già qua Vedete anche la pecca E se all'inizio Della sottofase Di battaglia Ha 15.000 O più di forza Guadagna un crit Quindi basta un attacco Con Cielo notturno Se abbiamo Onda nell'anima Che riusciamo a mettere dentro Sia con l'effetto Di Enigma nuvola Sia con lui Se l'abbiamo il turno prima Ne giochiamo solo 3 Perché Ci serve solo Per farla stare La fase finale Il resto Lo giochiamo Per scartarlo Per fare stride E perché ho voluto Tenermi lo spazio in più Per Un'altra carta Che vediamo adesso Ovvero Il 3x Di Die Kaiser Perché giochiamo Die Kaiser Per chi non lo conoscesse È la Break Ride Penso più forte Che c'è in circolazione Per ora Dice che Quando In Limit Break Gli andiamo a raidare Sopra Una carta Una carta Al costo di Un gisare Un danno La carta Che gli andiamo In sopra Guadagna 10.000 Un critico E Guard Break Cos'è Guard Break Guard Break Dice che se nel nostro Controllo d'assalto Dovessimo rivelare Un g3 Per questo Ne giochiamo 9 Scegliamo Un guardiano Giocato al nostro Versario E li lo distruggiamo Se addirittura Quel guardiano Era un apg Distruggiamo L'effetto di Nullificazione Del colpo Cosa ci serve A fare questo Nel nostro turno finale Se noi vogliamo Vedere lui Per tutta la partita E star da lì sopra Quando vogliamo Chiudere Enimun Tornado Enimun Tornado Che diventa già Un 21 Col crit Quindi è già Pericoloso Con Guard Break Che se dovesse colpire E il nostro Versario Sopravvivere Effetto E abbiamo Un altro Attacco da 21 Perché con l'effetto Di Enimun Tornado Lui diventa Un 20 O un 21 Dipende da Se abbiamo In anima O no Enimun Onda E Col crit Quindi il nostro Versario Diciamo che In quel turno È messo Parecchio male Andiamo a Vedere la Lineup Degli Inneschi Giochiamo Una lineup Molto semplice Diciamo la cosa Prima di tutto I 4x Di Enigman Tramonto Carta arrivata Con GPT1 Ed è il critico Per eccellenza Per questo mazzo Infatti Cosa dice Il suo effetto Dice che Se questa carta È nella nostra Anima Noi possiamo Ributtarla Nel mazzo Dare più 4000 Al nostro Vanguard Con Enigman Nel suo nome Se lo facciamo Quella carta guadagna Che l'effetto Che salta Che lo dovesse colpire Counter Sargi 1 Quindi Cos'è la forza Di questa carta qua Che giocando Solo lui In anima Giochiamo Per suo effetto Lo mettiamo in anima Prende più 4000 Attiviamo il suo effetto Torna nel mazzo Più altri 4000 Raggiunge I 19 Che ci servono Abbiamo rimiscrato Un crit E anche se dovesse colpire Praticamente Giochiamo il suo effetto Soltanto tirando via Una carta all'anima Critico fondamentale Per questo mazzo Dopodiché Io gioco I 4x Del buon Dye Butler Perché giochiamo lui Perché Ripetiamo Lui Ci butta delle carte In anima Dalla mano Lui Per chi non lo sapesse Ha un effetto Che se è in anima Noi possiamo Solblastarlo Tra virgolette Per dare più 3000 Al Vanguard Perché lo facciamo Attiviamo il suo effetto Diventa un 19 Abbiamo anche lui in anima Lo buttiamo via 21 Ed è di sicuro meglio Di un qualunque altro critico Senza effetto E dopodiché Ovviamente Completiamo il pool dei critici Giocando alle 12 Questo mazzo deve crittare Non è che ha molta scelta 12 critici Mi sembra il minimo E poi ovviamente E 4 perdere cure Non ci piace perdere Direi che così Non perdiamo di sicuro Tra virgolette Almeno abbiamo la cura di sesto Andiamo alla fine A vedere I nostri G4 Che è la più varia Line up di G4 Che ho Perché ne giocherò Penso qua 6 diversi Non lo so Vediamo subito Allora Questo è il mazzo Insieme a Cosmi Hero In cui possiamo giocare La gattina Ovvero La pretty cat Perché possiamo giocare La pretty cat È molto situazionale La giochiamo in 1 pair Può servire in certe situazioni È il classico Noi la giochiamo Se ci serve È sempre lì pronta Se non ci serve Via con Ausilio G Girata per effetti Eccetera Così c'è la gattina Se Il suo attacco Diventa almeno 34.000 Quindi Gli abbiamo dato Più 8.000 Nel caso avessimo Un cuore Con 11 di forza Cosa molto facile Giriamo un danno Meno 5.000 Dal vanguard avversario È situazionale Perché Per esempio Abbiamo lui in cuore Abbiamo sparato dentro Due critici Perché li avevamo E non abbiamo voluto Rimescolarli Li abbiamo tenuti Per sicurezza in anima Li spariamo adesso Li rimettiamo nel mazzo Più 8.000 Li guadagna E ha Enigma nel nome Perché la trascendenza Guadagna anche il nome Del cuore Tiriamo un danno Meno 5 Dal vanguard avversario Può servire In certe situazioni Che non abbiamo mano Non abbiamo danni Per fare altre cose Diciamo Un 1 per Molto situazionale Ma Ci può stare Poi giochiamo Il 2 per Di Omega Omega Per chi segue Il nostro canale L'ho già spiegato Bene Nella Decklist di Zial Però In un vanguard In un mazzo In cui C'è anche Laurel Lui guadagna Ancora più forza È Comodo Avere il 2 per Può sempre servire 1 o 2 Vedete voi Ma per me Il 2 per Ci sta Perché può servire Anche più volte Cosa dice il suo effetto Quando noi andiamo A stradarli in vanguard Giriamo 2 Pariamo un attacco Dall'anima Scegliamo una nostra Retro Per esempio Enigma Tornado La mettiamo in anima E tutta la fila frontale Del nostro avversario Prende meno La forza Di Quella retro Quindi nel caso Di Enigma Tornado Prende meno 11 Quindi ci può servire Sia per buttare in anima Non so Il classico Enigma Honda Buttare in anima Enigma Tempesta Buttare in anima La carta che ci serve Che tipo per caso Abbiamo giocato in retro Perché ci serviva il turno prima Dare meno forza Abbiamo Laurel Picchiamo sicuramente Due volte Ci facciamo un più 6 in mano Perché è il doppio check Il triplo check Quindi Io Se fossi in voi Duel giocherei sempre Poi Come al solito L'ho spiegato più volte C'è la possibilità Ovvero Enigma Tempesta Di avere un Vanguard Da 10.000 Quindi L'uno per Dell'Armonix Messiah Per me ci sta Vanguard Da Stride G4 Giallone Che però Un 16.000 Quindi se noi fossimo costretti A non avere supporto Dietro Vanguard Avere l'Enigma Tempesta Come cuore Non Con l'Enigma Nonda Nell'Anima Che scusatemi Enigma Nonda A parte Enigma Tempesta È un 10.000 Sempre Quindi Andando a stridarci Sopra qualcosa Ci stradiamo sopra lui Almeno È un 26 Se non abbiamo supporto dietro Può sempre Avere A quei 1.000 in più Per colpire Senza Con più scudi Dopodiché Giochiamo L'1 per Di Fico X Perché giochiamo Fico X Questo mazzo Può fargli raggiungere Sempre situazioni Quindi Per questo Lo giochiamo Solo in 1 per I 45.000 di forza Che gli servono Per attivare il suo effetto Quindi l'1 per Ci può stare È sempre situazionale Può sempre servire Cosa dice Se il suo attacco Dovesse colpire E ha Almeno 45.000 di forza Anche col supporto Giriamo 2 Scartiamo Una carta Scegliamo Un'area Tra il nostro avversario E gliela mettiamo Le danni Tappata Può essere Il danno finale Quindi Se noi vediamo Che il nostro avversario Non riesce a parare Questo attacco qua Però Ha ancora tanti danni Tipo Ne ha ancora 3 Quindi noi sappiamo Che non riusciamo A chiuderlo in questo turno Noi andiamo a provare A fare lui Gli diamo Tutta la forza possibile Rispariamo fuori I critici Attacchiamo prima Con i celi notturni In modo da dargli la forza Cerchiamo di fargli raggiungere I 45.000 Attacchiamo con lui Se Il suo attacco va Abbiamo vinto Tutto qui Serve solo a questo Come detto È sempre situazionale Può sempre Essere utile Per farla sparire Con ausilio G Diciamo che Al posto di usare Atmos Che comunque giochiamo In una copia È sempre meglio Dopodiché Giochiamo Due Tigre X Perché due Non di più Ok Può servire Però Come dire Lui diventa forte Della seconda stride La prima è difficile Che faremo lui E Fa girare Una qualunque Altra carta Quindi noi potremo Girare anche queste Non siamo obbligati A girare una Tigre X Arrivare Alla terza battle Alla terza stride Vuol dire che la partita È andata veramente male Quindi Senza mente Non ci arriviamo Preferisco avere Quindi più Soluzioni varie Che Avere Un'unica soluzione Che è Tigre X Cosa dice Tigre X Quando attacca Noi Giriamo a faccia in su Quando attacca Vanguard Scusatemi Giriamo a faccia in su Una carta Della nostra Gidon Lui guadagna 4000 Per ogni carta A faccia in su Nella nostra zona G E se raggiunge Almeno i 45000 Di forza Guadagna un crit Diciamo che È il nostro stride Che deve continuare Le nostre due stride Prima di andare A fare il turno finale Ultima Ma non per importanza Ma in realtà sì Giochiamo l'uno per Di Atmos Serve sempre Per situazionale Se abbiamo bisogno Di fare un attacco Grosso di Vanguard Il primo attacco grosso Non abbiamo Carte Che ci permettono Di potenziare Eccetera Ci sta sempre Un'uno per Ma può diventare Una qualunque carta Di queste Di per sé Può diventare Anche il secondo Armonix Nel caso abbiamo bisogno Di fare due stride Di tempesta Diventare un'altra Tigre X Per fare un terzo attacco Di tigre X Diventare Boh Volete giocarci Due Falco X Nessun problema Questa quindi Era la decklist Di Enigman Lo vedrete Penso Alla fine Di questo periodo Brutto periodo Nelle nostre Zui chip Spero che questa decklist Vi sia piaciuta È un po' particolare Un po' strana Ci vediamo Un prossimo video Un prossimo video Un prossimo video